Romina Carrisi adirata con i Fall Lovers. Lo sfogo della figlia di Albano. Romina Junior, figlia di primo letto di Albano Carrisi e Romina Pover, si sfoga con i Fall Lovers. L'annuncio che ha spiazzato tutti. Sono stati una delle coppie più amate del panorama artistico italiano, e di recente si sono ritrovati per tornare a calcare i palchi di tutto il mondo. Stiamo parlando di Albano e Romina, un duo che negli anni, ha dato vita ad un sodalizio formidabile. Inizialmente come marito e moglie, in seguito solo in veste di colleghi. Di certo, quando i due cantanti si esibiscono nelle loro canzoni, le scintille sono assicurate. Il cantante di Cellino San Marco, e la Pover hanno avuto quattro figli. Ilenia, Iari, Cristel e Romina Junior. Proprio quest'ultima, nei giorni scorsi, si è lasciata andare ad un duro sfogo nei confronti dei Fall Lovers. Ecco la richiesta che nessuno si aspettava. Romina Junior e l'appello ai Fall Lovers. Le motivazioni. Dopo la separazione da Romina, Albano si è legato alla show Giro Loredana Lecciso. Dalla quale ha avuto altri due figli. Albano Junior, detto Bido. E Jasmine? Ciascuno di loro, tuttavia, vive la propria vita indipendentemente dal papà. Jasmine, come rivelato dalla stessa Loredana, è prossima al trasferimento a Milano per motivi di studio. Solamente Bido, per ragioni d'età, vive ancora a Cellino. La più piccola dei figli di Romina Pover, Romina Junior, si è di recente lasciata andare ad uno sfogo sui social. Ecco, nello specifico, le parole da lei utilizzate. Ciao. Potete cortesemente non mandarmi mail con le vostre personali opinioni su terzi collegati a un membro della mia famiglia? I Fall Lovers, dopo aver letto questa frase, si sono subito domandati il motivo di una simile richiesta. Alcuni hanno ipotizzato, che c'è in triviari Carrisi, secondo genito della famosissima coppia. Quest'ultimo, infatti, si è da poco lasciato con la fidanzata Thea Crudi. Le dichiarazioni di Romina, tuttavia, non sono ancora del tutto chiare.